Si chiama Rigiocattoliamoci, l'evento organizzato dal consigliere comunale Federica Scalia in collaborazione con la protezione civile di Caltanissetta e l'associazione VIP, Clown di Corsia. L'evento, partito oggi pomeriggio al Collegio Sant'Agata, prevede la distribuzione di giocattoli nuovi o usati da donare ai bambini meno fortunati, regalando loro un sorriso e due ore di gioia e spensieratezza. Le altre due tappe saranno il 1 novembre al quartiere Providenza, nel laboratorio di creatività nella piazzetta fuori dagli schemi e il 2 novembre a San Domenico. Domani saremo al laboratorio ricreativo quartiere Providenza, giorno 2 alla chiesa San Domenico. Questa iniziativa Rigiocattoliamoci è stata organizzata per le famiglie e i bambini meno fortunati con il principio che tutto ciò che non viene più utilizzato non per forza bisogna buttarlo, ma basta un piccolo ritocco che è una bambola, un puzzle, una macchinetta, può prendere una nuova vita, una nuova forma e quindi regalare solo di sé altri bambini. Mi impegnerò alla realizzazione di altri eventi come questi e sono contenta della riuscita.